Ecco un altro esercizio per il nostro addome e la nostra Gag, il nostro turbo Gag, allora scendiamo giù, andiamo nella posizione di 100, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, biciclette, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e di nuovo e 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e vai, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, eccellente ragazzi, ti aspetto qua per il nostro prossimo esercizio insieme. Questo esercizio è una nuova plancia sempre chiamata cocodrillo, ci mettiamo in avanti, immaginatevi finire lateralmente così, 1, 2, 3, destra, sinistra, addominali tisi, mentre vieni in avanti, continui, 1, 2, 3, hold, 1, 2, 3, ferme, 1, 2, 3, ferme, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1, eccellente, buon lavoro, ci aspettiamo nel prossimo esercizio insieme. Eccoci di nuovo per un altro esercizio, per il nostro gag, il nostro abdominale, questo lo chiamo rocking chair, dondolo, perché dondoliamo da dietro avanti, allora indietro, stendo, su e tengo, dobbiamo fare solo 5, indietro, stendo e tengo, addominali molto molto tesi, ancora 3, vado e torno su e tengo, ancora 2, tengo, ultima, e tengo la posizione, tieni e relax, ricuperi un attimo, ok, che dobbiamo ripetere un altro 5, ricordi che l'ombelico è sempre attaccato alla tua colonna vertebrale, addominali molto molto tesi, ok, grandi sorrisi che state facendo un lavoro eccellente, ok, siamo pronti l'altro 5 e indietro, 5, su e tengo, e 4, su, 3, su, ancora 2, vado, e su, e questo è l'ultimo, e tengo, relax, eccellente, un altro esercizio fatto insieme, complimenti. Pronti per un altro esercizio insieme per il nostro Turbo Gag, il nostro Turbo Gag, allora sedetevi su un gluteo soltanto, ok, stenditi, dobbiamo sollevarci e scendere, su e giù, 4, 3, 2, rimango su, tengo la posizione, tieni, ancora, ancora, 4, 3, 2, scendi giù di nuovo, and, 4, 3, 2, tengo la posizione, più che puoi, tieni gli abdominali tesi, 4, 3, 2, e cambi lato, uh, ci piace, Turbo Gag, Turbo Gag, tutto, 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 per la nostra butt and gut, come si dice in inglese, ok, andiamo, su e scendo, e 2, 3, 4, rimango su, tieni la posizione, 4, 3, 2, e scendo giù di nuovo, giù, e su, 2, 3, 4, ancora, one more, ancora uno, e tieni, teniamo la posizione, 4, 3, 2, e stop, ecco, un altro esercizio fatto insieme, complimenti e vi aspetto alla prossima. Io ho detto che mi piace tantissimo la plancia, perché la plancia in tutte le salse vanno benissimo per i nostri addominali, allora, specialmente i nostri core muscles, così, scendiamo giù, come ti giù, sollevo i fianchi, a questo punto però, dondelleremo a destra e sinistra, ok, proprio fianco destro, fianco sinistra, sollevando l'ombilico ogni volta che passo da un lato all'altro, ok, sollevo e giro, continui, 8, 7, 6, 5, 4, 3, tiri addominali belli tesi, vai, 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 continui, 4, 3, 2, ancora, dominali tesi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ottimo otto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax, wow, un altro esercizio del nostro Turbo Gag insieme, eccellente, ti aspetto al prossimo esercizio.